Sono molto altruista e mi dava un po' fastidio che queste ragazze non mi volevano. Quando ti bullizzano ci si sente frustrati perché te cerchi di correggere. Se ci stai male però cerchi di scherzare su una situazione almeno il bullo non continua a disturbarvi perché capisci che su di te non ha effetto. La mia storia è una storia di sottotitoli, ma se non si è mai più sottotitoli, non si è mai più sottotitoli. Non si è mai sottotitoli, non si è più sottotitoli. Questo è tutto così. Ia tutto il compagno! Il mio fratello è un figlio piccolo e si gioca anche lui con noi e in un momento a passato e in un momento a inceput e a inceput sa ne jure a spiegare a spiegare e come ti senti? Ma senti foarte prost Ma senti che chiar aveva dreptate Pensi che nel torto sia tu quindi cerchi di correggerti invece di cambiare companie o far capire che non sei te che sbagli Quando sei vittime di discriminazioni e insulti non si viene accettati per come si è Quando uno è bullizzato può avere diverse emozioni perché tu devi capire prima com'è la persona i suoi sentimenti e le emozioni e quindi potrebbero essere diverse Anche soli ed è molto difficile riuscire a parlarne con qualcun altro Quando ce la fai trovo che sia un buon passo avanti e quindi se la fai trovo che sia un buon passo che sia un buon passo che sia un buon passo a volte si piange come una femminuccia gli chiedevo come stavano e ha sempre un aiuto un compagno un amico che magari gli rende la vita più facile o comunque lo aiuta a superare le difficoltà durante le step io ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo ma una volta quando eravamo in un buon passo quando eravamo in un buon passo ma non ha detto io ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo che ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo io ho avuto un buon passo ciao atto la coppinti rupau su kyravai multi uo mano darželio vienos draugas titas susilaužęs buvo ranka ir da vienos draugas ciò jau senai iš kiemo buvo irgi susilaužęs rankas nu ir mes kai žaidėm jisai norėjo bet negalėjo tai aš attėjau prie jo atsisėdau ir nu pasikalbėjom kol nu baigėkite vaikai žaisti L'unico c'è l'altro deve essere comportati più famosi, adicò non si rilasciano e si aiutano l'uno tra loro. Io, per dimostrare la mia gentilezza, magari mi offro disponibile nei confronti degli altri, provo a immedesimarmi un po' nella loro situazione. Allora, una buona strategia per rispondere a una battuta anche d'odio potrebbe essere fregarsene, non proprio lasciar perdere quello che ti dice, perché comunque fa male. Lei ha detto che ci ha giocato con i secoletti, ma le potenze dice che se ti portano tutti i cucinevoli non sei mai caro. Però credo che bisogna combattere, perché sennò ti fai dimostrare debole contro quella persona, anche se magari ti senti di non essere alla sua altezza, però devi comunque combattere con le tue forze o con quello che ti senti di avere. Per esempio, ti ho anche fatto sentire, per esempio, tu provi a sluomare, provi a sluomare, e se voglio, se c'è la ditta di bambi, se provi a sluomare, se non ho provato. Non è che non si può perdere una persona che ha fatto, come se ha chiamato, come se ha chiamato. La persona che ha chiamato in un'escalato, è stata scolta con un vulcanismo. Ma che cosa che fa? Ieri è molto bello. Siamo schiali la persona di una classe, hanno un'escalato, e non è così come se si è un scolto. ma non si può essere un po' di chiama ma non si può essere un po' di chiama e non può essere molto difficile e non poterlo di andare a casa e non può essere più 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 e non può essere un po' di chiama E' un'un che, come tutti gli erbbero, che si sono stati di dalle cose, e' un'un che si è stato molto legato, e' un'un che si è stato molto legato, e' un'un che si è stato molto legato. E' un'un che si è stato legato, e' un'un che si è stato legato, ma dopo aver scritto le cose, se si era un'un che si era il vostro amore, cosa avessi di farlo di più? E' un'un che si è stato legato. Il nostro corso è stato legato, ma ci sono legati. Il nostro corso è stato legato. Il suo corso è stato legato, Il corso è stato legato. E' la cosa è legato. Ma, ma, ma cosa pensate, come potremmo noi questi si magari andiamo a aiutare? che si compre la loro cosa? Dino che si possono parlare. E quindi ciò diccio. E così ciò diccio. Ma perché? Sì, ma perché? E così. Se non a stopper, quindi ciò diccio. E cosa dobbiamo fare se la persona non stopte? Ciò che dà una persona di che... E' un giusto che ti dice. E' un giusto che ci dice. Ma cosa pensi di ciò di cyberpest? Che succede in te? Se succede in te, se succede in te, se succede in te, se succede in te, se succede in te. Perché in mezzo delle games e app, si può bloccare di te. Se succede in te, se bloccare di te. Ben sei bambi per qualcosa quando vai online? Non c'è niente, non c'è niente cosa che mi bambi per essere. Perché sono solo persone che parlano via internet con me, anche se sono bambi, non possono fare molto. E chi può aiutare le persone che si sono bambi o che si sono bambi? Come si può? La mia madre. E cosa che si può? Il solo che si può fare è ancora un po' di situazione e leggere la cosa che non è successo. 4 al 3 al 2021 Dragul meu prieten, dacă ai avut sau încari niște teme, te pot ajuta Când ți este frică, nu trebuie să intri în panică Tu va trebui să rămâi caln și să te gândești ce vei face Foarte important ar fi să chemi pe cineva care ar putea să te ajute sau poți încerci să scapi singur de frica ta MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE! 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 MULȚUMIT PENTRU VIZIONARE!